Uno spazio mobile per famiglie e piccolissimi. Giovedì 19 maggio tra le 16.30 e le 18.30 in Piazza Grande a Palmanova arriva il furgoncino di un villaggio per crescere. Allora sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Un furgoncino che porta libri e giochi dando appuntamento a genitori, bambini e nonni in piazza e spazi comuni. Furgoncino il villaggio itinerante farà la sua prima uscita a Palmanova giovedì 19 maggio in Piazza Grande tra le 16.30 e le 18.30. L'attività rientra nel progetto un villaggio per crescere, uno spazio dove genitori e bambini tra gli 0 e i 6 anni con il supporto di educatori professionali possono passare del tempo assieme scoprendo attività piacevoli e dai grandi benefici per lo sviluppo del bambino e per la relazione tra bambino e genitore, quali la lettura di storie, l'esperienza musicale, il gioco, l'espressione artistica e altri ancora. I centri che operano in media dai 3 ai 5 giorni alla settimana, così come il furgoncino, vogliono essere un luogo creato per e con le famiglie, un luogo in cui i bambini e bambine possono assieme ai loro genitori, nonne, zie e altri adulti di riferimento trovare confronto e dialogo nonché sostegno nell'affrontare i crescenti bisogni delle famiglie e in particolare dei neogenitori. Tra questi bisogni riscontrati ci sono il condividere delle esperienze, fare amicizie, essere sostenuti nella conoscenza dello sviluppo del bambino e scoprire buone pratiche facili e piacevoli che possono essere riproposte e rivissute a casa, commentano così il sindaco di Palmanova assieme all'assessore comunale all'istruzione. Il villaggio da poco più di due mesi inaugurati sui spazi a Palmanova nei locali messi a disposizione dal comune in via Mocenigo 9. Il progetto è parte di una più ampia iniziativa coordinata dal Centro per la Salute del Bambino Onlus che ha visto aprirsi con il finanziamento dell'impresa sociale con i bambini e della fondazione dei Human Safety Net del gruppo generale attraverso il progetto Ora di Futuro Attivo in Italia e una ventina di altri centri in tutta Italia tra cui anche quello di Palmanova. I villaggi per crescere vogliono anche essere parte della rete di servizi che già i territori offrono e in quest'ottica si propongono come spazi in cui i genitori possono ricevere informazioni utili ad agevolare l'accesso e la conoscenza di quanto comuni enti e associazioni propongono per le famiglie.